Il Consiglio regionale si apre, l'Assemblea legislativa apre le sue porte a tutti gli eventi organizzati sul taglio culturale, artistico, che producono qualcosa anche nell'animo. Quindi non potevamo tirarci indietro rispetto all'iniziativa del Rotary, che ha una finalità giusta, concreta, che vuole sostenere delle progettualità per l'inclusione del mondo dell'autismo e il Consiglio regionale fa la sua parte donando gli spazi del colonnato. Un colonnato e l'emicico che è diventato simbolo non della città dell'Aquila, ma dell'intero Abruzzo, che si è rinnovato in questi anni. E' tanto bisogno di far conoscere ancora oggi questa condizione. L'idea, la proposta del Club Rotary di valorizzare il sapore, la cultura, la professionalità degli chef all'interno dell'emiciclo del colonnato ci è piaciuto, ci ha entusiasmato, perché in genere queste iniziative sono sempre, non dico marginali, ma non sono mai al centro dell'attenzione. Qui invece scendiamo direttamente nel massimo, nell'eccellenza, quindi cuochi, chef, migliori chef, migliori metri, una situazione vertigiosa e l'istituzione regionale. Quindi da qui possiamo fare solo cose bellissime per i nostri ragazzi. E' la quarta cena che si organizza al Palazzo dell'emiciclo, perché oltre ad essere una bellissima location, un posto che ci rappresenta, che rappresenta la città, come dicevo sono fiero di aver unito tutti quelli che sono, bene o male i ristoratori del nostro territorio, della città dell'Aquila, ho voluto proprio organizzarla con loro per rafforzare il rapporto, per fare squadra, ma per valorizzare ancora di più il nostro territorio. E' una cena che è andata sold out in pochissimi giorni, quindi ci fa piacere che ci sia questo spirito di voler aiutare chi ha più disabilità. Ecco, io penso che, come ho detto già anche in conferenza stampa, la forza dei grandi si misura pensando ai piccoli. Tutti questi ragazzi, questi chef che hanno contribuito con noi a realizzare questa bellissima manifestazione, penso che questo sia lo spirito proprio delle grandi persone.